Picco d'ascolti ieri per Chiaro di Luna, nel Salutino TV di Teleradio R, un parterre di alto profilo e il CDA di Universo Salute guidato da Paolo Telesforo e Michele Dalba. La vita non è vivere, ma vivere in buona salute, lo diceva Marziale. E quando la salute non c'è più, c'è Universo Salute che ve la restituisce. E così, ieri sera Michele Finis ha voluto raccontare al pubblico di Teleradio R la sfida imprenditoriale di un gruppo che gestisce, dallo scorso ottobre, uno dei polisanitari più importanti del Mezzogiorno d'Italia, per numero di addetti e linee di attività. Con l'operazione del Donuva, che, si ricorderà, è interessante non solo per la continuità operativa della storica struttura, fondata nel 1922, ma anche sul piano imprenditoriale, per una volta la Puglia e tutto il sud del paese ripartono da Foggia. Il merito è di un gruppo industriale solido, la premiata ditta Telesforo d'Alba, in cui si spendono persone che fanno dell'imprendere la loro ragione di vita. L'opera Donuva estende la sua funzione, la sua azione, non solo nella Capitanata, non solo nella Puglia, non solo in questa regione, ma altrove. Parliamo di uno dei più grandi gruppi d'Italia e uno, sicuramente, tra i gruppi leader del Mezzogiorno, per la cura della persona. Al centro della discussione, quindi, proprio la ripartenza della grande realtà sociale e sanitaria, un dibattito al quale ha preso parte al gran completo la tecnico struttura, sia del comparto amministrativo, sia quello medico di Universo Salute. Grazie.